Oggi proveremo a amparare Ha 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 Chiuso a fare le inversioni Grazie Vai più dietro c'è spazio Vai 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 Cazzo Vai 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 Cazzo Ma adesso dove vado? Così Ma devi stare attendo a la macchina Una macchina che sta per passare casomai Dai, dai, non c'è nessuna macchina Credevo ci fosse una macchina Scusami Adesso devi la freccia perché se ne sono resi conto Adesso c'è un pedone Oddio, lo prendo Faccio lo stop, mi butto a sinistra Non è successo niente ovviamente Gesso, vota, gesso, vota Ha fatto Ok, ecco No